Se lasciamo giocare a Napoli è sicuro che fa un gol o è sicuro che possiamo soffrire. L'importante è essere dentro la partita a 90 minuto, 95, è quello che si può giocare e dopo è la concentrazione, che è quello che è importante. Io credo che ha fatto un bel campionato Napoli. Sì, credo che noi abbiamo perso due attaccanti importanti, quello sicuro erano più punti ma credo che meritano stare davanti di noi. Ma non so se c'è tanta differenza, ma loro hanno avuto giocatori tutto il campionato e noi abbiamo cambiato molto la squadra. Noi sappiamo l'illusione che ha la città, il tifoso, e per quello noi vogliamo fare questo regalo della Coppa. Se sente, se sente, se sente nel stadio. La prima volta che ho visto la gente dopo una partita contro il Milan, che abbiamo arrivato a un treno, lì ho capito come la gente di Firenze e come sente il calcio. già l'ho detto, è un lavoro di due anni che veniamo giocando bene, veniamo a fare cose importanti, ma questo deve finire bene e magari questa Coppa. è un lavoro di Firenze. Allora, Grazie.